Da 50 anni di esperienza a stil bagno nasce Camer. Sondio teatro, parola agli spettatori. Mentre con Teatro sotto le stelle, l'attività all'aperto e ripresa, con lo spettacolo di ieri sera in piazza Teresina, tuo acquario, e i prossimi due in programma il 12 e il 20 di settembre, l'amministrazione comunale comincia a pensare alla nuova stagione teatrale. Normalmente in questo periodo cominciava la corsa a rinnovare l'abbonamento o ad accaparrarsene uno, e veniva reso noto il cartellone. Quest'anno purtroppo non sarà così, tanto che l'assessore alla cultura del comune di Sondrio ha deciso di affidare a una lettera indirizzata a tutti i cittadini appassionati di teatro, possessori di abbonamento negli anni scorsi o spettatori di alcuni spettacoli che proprio in questi giorni erano soliti ricevere la programmazione della nuova stagione teatrale, la spiegazione di quanto sta succedendo. Fratta in primis richiama le problematiche causate dall'emergenza sanitaria. L'attenzione è ora concentrata sulla prossima stagione del teatro che potrebbe riaprire con una capienza limitata a 220 posti per adottare le misure di sicurezza e garantire il distanziamento sociale. Con la disponibilità dei posti ridotta alla metà verranno proposte per ciascuno spettacolo due repliche in giorni consecutivi, scrive l'assessore Fratta. Sulla base delle valutazioni fatte nell'ambiente dello spettacolo si ritiene verosimile che da gennaio 2021 si possa tornare alla situazione esistente prima dell'emergenza sanitaria, quindi al teatro nella sua completa dotazione di posti. L'intenzione è quindi quella di proporre otto spettacoli di prosa da vendere in abbonamento, con diritto di prelazione a chi l'aveva acquistato la stagione scorsa e la possibilità di nuovi abbonamenti qualora si verificassero delle rinunce. Per questi motivi, allo scopo di definire l'organizzazione in tutti i suoi aspetti, vengono sottoposti a tutte le persone potenzialmente interessate ad assistere agli spettacoli una serie di quesiti per conoscere la loro opinione contenuti in un questionario legato alla lettera dell'assessore Fratta. Dal gradimento per la messa in scena dell'opera lirica Madame Butterfly il 24 e 25 ottobre, all'interesse per gli spettacoli teatrali fuori abbonamento, uno a novembre e l'altro a dicembre, fino alla stagione di Sondioteatro con otto spettacoli di prosa in abbonamento. Il questionario può essere compilato online accedendo all'home page del comune di Sondiola alla sezione Ultime Notizie oppure restituito entro il 10 settembre durante gli spettacoli all'aperto al personale presente presso il servizio Eventi a Palazzo Martinengo, previo appuntamento chiamando il numero 0342526320